Salve a tutti ragazzi e bentornati al mio canale, oggi siamo su Final Fantasy XV con questo video voglio farvi vedere come aprire le porte segrete dei dungeon innanzitutto dovete fare questi 4 dungeon, finirli completamente una volta fatto concludete il gioco concluso il gioco ragazzi caricate la partita, quella di fine gioco e tornate in questa mappa qua in questa mappa troverete questa città andate in questa città e lì troverete una vecchietta questa vecchietta raga vi parlerà, vi spiegherà un po' di cose e poi vi darà una fantomatica chiave fantastica, inimmaginabile che vi dovete ficcar culo spinge forte 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 fino a che non vi si apre il mono dell'unicorni dorato e da là potete fare quello che volete ragazzi no raga a parte gli scherzi questa chiave vi permetterà di aprire le porte segrete dei dungeon dietro a queste porte ragazzi non si sa cosa c'è io ancora non l'ho fatto non mi sono neanche spoilerato altre cose su altri canali ma bensì voglio farlo qui insieme a voi detto questo raga non penso che c'è da dire altro a riguardo cercare di essere almeno livello 50 perché una volta che vi darà questa chiave vi sbloccherà delle missioni che ogni missione vi riporta dentro queste porte e finire ciò che c'è da fare all'interno e di lì mi pare che comunque il livello che uscilla uscita il 50 e il 60 ma non ricordo bene comunque lo vediamo qui tra pochissimo ragazzi ho detto questo vi saluto e vi ringrazio forzaremo a bassa lazio iscriviti al mio canale e bello a tutti grazie a tutti grazie a tutti